Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di GeneticDnaia con questo nuovo gameplay di Slaving Dogs, il sesto forse. Ok. Cosa va Winston? Sono Benny, il manager di Club Banban, un mio vecchio amico. Ora sta lavorando per Dog Eyes. Il Hamgatan è tornato da noi per prendere il minibus. Guarda, andrò a parlare con Benny e fargli vedere il riso. Sì, sì, vai, vai. Un pollo! Bene ragazzi andiamo al coso lì. Comunque intanto che ci richiamo lì volevo dirvi che mi sono guardato la presentazione della nuova Xbox. Beh, che dire, boh. Si chiamerà Xbox One, avrà il Kinect incorporato e assomiglio al videoregistratore che mio padre mi ha regalato quando avevo 8 anni. Però dai, hanno confermato 15 esclusive tra cui 8 saranno nuovi IP, quindi speriamo bene, vabbè, continuiamo la nostra partita dopo questa cosa qui. Yeah, porca vacca. Il video del registratore di quando ero piccolo, fichissimo, quanti ricordi, potrò averlo di nuovo. Gli cancello la scritta Xbox e li metto Telefunken. Bene, eccoci qua. Bam bam! Sentite che tu... Oh, che tocchi? Pervertito. Gay. Ehi, fai passare? E' fighissimo! Chissà cosa fanno in una discoteca che si chiama Bam Bam. Oh, che tocchi? Ehi, fai passare? Ehi, c'è vittà solo di VIP! Cosa ci sta? Cosa ci sta? E' una delle persone più cariocciate del città. E' una delle persone più cariocciate del città. N'uncai si chiama il vostro con una hostess o la vostra. E' sicuro che possiamo fare qualcosa di più. E' fai passare qualcosa di più. E' fai passare qualcosa di più con la hostess. Ah beh, paghiamo la hostess. Ah beh. Ehi Bella! Ciao Bella! Ciao Bella! Io sono Tiffany. Buongiorno di conoscerti. Sono Wei. Wei Shen. Sei una hostess karaoke, certo? Puoi portarmi in una sala di VIP? Certo! Vieni conmi! Yeah! Chiamo Bella! Nella vita reale non funziona esattamente in questo modo, ma vabbè. Nel senso che quando parli con la tipa, dopo due minuti arriva il tuo tipo grande 20 metri e si tira un pugno in testa. Bellissimo! Che cos'è? Cos'è? Oh cacchio! Nooo! Nooo! Cosa cazzo è? Ok. Sono morto. Io... Queste cose qua... Madonna! Le odio. Vi giuro, le odio. E' sempre odiato questi giochi, porca put... Ecco, cominciamo. Eeeh! Aiuto! Ma come cazzo? Fammi... ... Merda! Sensibile sta merda! Oh! Beh! Ce la faccio! Yeah! Vai! Si! Ehi! Cazzo! Cazzo! a motivo motivi e non è andata tanto male Certo, ma mi piace qui qui, ma quando ero a casa, sono più vicino. Voi essere la persona con cui mi parlare, certo? Posso poter una sala VIP? Si, ovviamente. È molto più piacere in l'interno. Per andare a la sala del lounge. I'll get the sala. E B Posso fare il midsport preferito? Prendere a pugnatoni qualcuno? BAM E Benny Bene, il mio sport preferito Arriva a BIM BAD BAM BAD BUM BAM BAM Ah, fa' un culo, toh! Chi è? Ciò, fa' questo! Eeeh! Non mi hai fatto niente, stronzo, toh! Toh! Ah, fa' un culo, toh! BAM! Toh, ma cazzo che volevi fare, pezzo di merda! Uh, mi hai fatto male, toh! Poi ti prendo! Vieni qua! Appare in culo! E tu! Anche! Te! Che cazzo vuoi? Va! Toh! Vai lì! Ma che cavolo! Yeeeh! Toh! Uuuuuh! BAM! Poveri pesci! Yeeeh! Ahahahah! Divertente! Un po' mi faccio prendere, perché è divertente quando mi melano, perché tu mi incazzo! Mi spacco la testa! Uuuuuh! Eh! Benny! Get the fuck out here! Benny! Benny! I know you're in there! Ma che cazzo! Molami! Pezzo di merda! Figlio di Benny! Toh! Va va, fa' un culo, toh! Deh! Toh, vai dentro qua! Ascoltala bene la musica, stronzone! Anche tu! Così insieme l'ascoltato in Dolby! Che musica striptosa! Eeeh! Sono un giocatore di football! Eh, mangia riso, va' a fa' un culo! Aia! Oh, c'è il coltello, tu! Non si gioca coi coltelli! Toh, vieni qua! Ah! C'è il coltello, bastardo! Oh, c'è il coltello! Ma vai, a fa' un culo, toh! Tu vieni con me! Andiamo a fare un giretto nella cassa! Ah, va' a fa' un culo! Ah, va' a fa' un culo, toh! Ah! 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 C'è il coltello, a fa' un culo! Ah! 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 Anche tu! Tu che cazzo vuoi, toh! Uuuuh! Bravo! Uuuuh, bravo! Chi ti ha insegnato, Bruce Lee? Toh! Ah! 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 Di cazzo! Dai! Dai! Toh! Hehehehe! Benny, vieni qua! Bam! Relax Benny, I'm not gonna kill you! Okay, just listen! Okay, What do you want? Just what I said, Winston wants to be your friend! And what about Doc Ice? Not your problem, I hope you're right, for my sake, can I go now? Of course you can't, Benny! Do you want to kill me? Yeah, I'm not going to kill you! Oh! Okay... I'm not going to kill you! I'm not going to kill you! Okay, I'm not going to kill you! qualcosina potenziamo che vediamo un po potenziamo la triade allora tu si che cazzo ok poi pergato tu sei conroy ancora guarda, ha un'occhiaio davvero il cover è compromesso? tu non ti fissi di me fuori di harbour All right. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond. Where do I start? There's a civil war brewing in the sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond. I gotta get back. Your state of mind is important, Wei. It's important to me. It's important to how you do your job. Fuck you. I do my job just fine. Well, that's for me to decide. You mean Pendru. Pendru assigned me as your controller. And listen, Wei. Pendru may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wei. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yo. Hey. 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 Henry. Perfect. Okay, guys. This is a game, man. And this is easy. I'll see you next time. Ciao, ciaohi for Buongiorno Gator. Genetic DNA. Bye. 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 Grazie a tutti.